Prima partita di campionato, bello iniziare con tre punti giocando in cassa, è venuto fuori qualcosina di bello, poi giustamente non riusciamo a tenere tutta la partita al 100%, siamo solo all'inizio, secondo me questo è il 60% del potenziale ancora che può far vedere questa squadra, questo gruppo, sono ragazzi giovani e quindi la squadra crescerà man mano, arriveranno le partite e niente, sono contento perché comunque al 60% abbiamo fatto delle belle cose, contro una squadra tosta, esperta che ci ha messo in difficoltà non solo un set tutta la partita, i ragazzi sono stati bravi a chiudere nel quarto set giocando qualche palla, soprattutto tanta difesa, tanto volume di gioco, tanto contrattacco che è quello che stiamo allenando di più, basta Ciao, finalmente siamo tornati in palestra, una bella vittoria, un po' sofferta ma ci sta con il primo inizio, l'obiettivo di quest'anno sarà mettercela tutta come sempre, oggi ci abbiamo provato e ci siamo riusciti, quindi ottima la squadra, ottimo l'impegno, basta per Riccino che ne ha preso il giallo di prima partita e tornate a trovarci, forza Biella!